Giuliano Cassani è sui campi di atletica da una vita, gli inizi all'arena civica, le prime gare con la Pro Sesto e le soddisfazioni con la SNIA BDP, poi insegnamento, giornalismo, coaching, ruoli federali e un libro, sul campo con passione e competenza. Giuliano Cassani, una vita nell'atletica, ma raccontaci meglio dell'atleta Giuliana. L'atleta Giuliana ha conosciuto l'arena subito quando era piccola, sui 12 anni, qui facevamo i centri di avviamento dell'atletica leggera, si chiamavano i tempi Cal e ho conosciuto parecchi istruttori che erano comunque degli ex campioni e avevamo questo bellissimo rapporto. che continuo ancora adesso con alcuni di loro, proprio stamattina mi sono trovata a riparlare con Furio Fusi che era un campione dei 400 metri ancora ai tempi ed erano loro che ci insegnavano questo amore per l'atletica leggera. Poi ho cominciato a appassionarmi un po' di più, fare sport a livello agonistico, è arrivata la Pro Sesto, ho continuato e purtroppo il mio primo allenatore Francesco Bianchi, che anche lui è stato olimpico negli 800 metri, è morto proprio qui all'arena un pomeriggio di settembre, il 20 settembre. E da lì comunque noi abbiamo continuato con questo Carlo Venini che era praticamente un guru del mezzofondo all'epoca e Carlo Venini e sua moglie Gabriella Guizza hanno creato un bel gruppo e diciamo che lì sono nate le prime amicizie forti che tuttora comunque continuano e sono andate avanti per decenni. Dalla Pro Sesto sono passata poi alla SNIA BPD e in quel momento ho incontrato proprio qui sulla pedana di salto in alto, quello che poi è diventato mio marito che allenava i ragazzi dell'Atletica Riccardi e mi ha cominciato a chiacchierare e poi è scoppiato l'amore con lui e quindi ovviamente ho seguito poi lui come tecnico e diciamo che mi ha aiutato molto da un punto di vista tecnico. Io ero un atleta che era abbastanza da costruire sulla forza, sulla velocità e lui ha fatto questo lavoro e infatti poi i risultati sono arrivati con lui. I risultati che per me erano quelli di far parte di una squadra che era la SNIA BPD, una squadra che vinceva gli scudetti, io ero una di squadra, la mia capitana Marisa Masullo e diciamo che avevamo, era una squadra che aveva vinto 13 scudetti e riuscivamo quindi a partecipare alla Coppa Europa per club, per me erano tutte cose bellissime e con le mie compagne siamo riusciti a vincere dei titoli italiani nelle staffette 4x4. Quindi diciamo che la parentesi da atleta è stata una parentesi molto felice, era un ruolo che mi piaceva da morire. Oggi continui con l'atletica, la tua passione, ma la trasmette ai giovani attraverso la tua nuova professione che è appunto quella dell'insegnante. Come cambia però Giuliana da professoressa il rapporto con l'atletica ma anche il rapporto con l'arena civica? Allora, come docente io ho cominciato subito, appena finito di ISEF, ho subito trovato lavoro nella scuola, prima nella scuola privata per 5 anni con i ragazzini più piccoli delle medie e poi sono passata alle superiori. Franco Sar, che ai tempi era il direttore tecnico della SNIA BPD, mi aveva offerto subito anche la possibilità di gestire un gruppo di atleti. Quindi io ho cominciato anche ad allenare in contemporanea, ho fatto intanto il corso per tecnico allenatore di secondo livello della FIDAL e quindi diciamo che i ragazzini li vedevo qui, ci allenavamo insieme e poi dalle 6, 6 e mezza cominciavo ad allenarmi io. Poi quando è diventato un po' più difficile conciliare l'allenamento mio con il loro, ho dedicato il tempo a me stessa e poi però ho ripreso più tardi ancora ad allenare con la Propatria e in quel caso però seguivo i ragazzi più al campo 25 aprile. Però le gare in quel periodo molto spesso erano qua all'arena, quindi noi dovunque ci allenassimo, comunque poi le competizioni, l'arena era un po' il centro, si facevano anche campionati regionali, campionati provinciali, c'erano parecchie gare serali, era molto piacevole. Dopodiché ho cominciato questo ruolo di tecnico però nello stesso tempo siccome avevo cominciato a collaborare con la Gazzetta dello Sport dopo qualche anno la FIDAL mi ha offerto il ruolo di ufficio stampa della FIDAL Lombardia. Quindi di nuovo l'arena era sede, c'è stato il primo grande evento, è stato il Grand Prix IAF del 1996 in cui ho potuto lavorare, c'era a capo del settore di cui mi occupavo che era il protocollo era Alessandro Castelli che è il presidente del CUS Milano e a capo dell'evento invece c'era Gianni Merlo della Gazzetta dello Sport e diciamo che sono degli eventi in cui impari moltissimo però diventa lavoro, era divertente però era lavoro ed è stata forse la gara più bella in assoluto siamo stati anche fortunati di avere campioni pazzeschi e nello stesso tempo una serata che era i primi di settembre adesso mi pare di ricordare il 7 settembre del 1996, l'arena era veramente stracolma e lì quando cominciano le telefonate di persone che mai si sono occupate di atleti che invita loro che a tutti i costi volevano esserci a quella serata capisci la forza che può avere il nostro sport comunque. Dopodiché ho cominciato a seguire l'ufficio stampa FIDAL e allora sono stati anni abbastanza intensi qui abbiamo avuto parecchi campionati italiani sia giovanili che mi pare poi due edizioni degli assoluti e poi un incontro internazionale che era la quattro motori della Coppa Europa di seconda lega, Coppa Europa B e quindi poi da lì diciamo che ho seguito questo filone diciamo di comunicazione. Poi è nata mia figlia, mia figlia poi è cresciuta, io ho ricominciato a correre con lei nel passeggino, mi è stato offerto di andare per il comune di Milano a rappresentare il comune per una mezza maratona a Osaka, nel frattempo avevo già cominciato a correre lungo per passione perché quando un atleta smette poi dice che cosa devo fare adesso anche se non è stato un atleta di punta però di fatto l'allenamento quotidiano manca e quindi ho cominciato a correre, ho fatto qualche maratona in giro per il mondo, mi sono divertita perché comunque è conoscenza anche quello di quello che è il nostro patrimonio che ti offre delle varie specialità dell'atletica, anche provarle su se stessa può servire, adesso per esempio mi è molto utile perché ho per esempio un atleta tra i nostri che partecipa alle mezze maratoni e da lì poi ho cominciato a seguire questa parte più tecnica perché poi mia figlia ha giocato a pallacanestro, ho fatto per un paio d'anni il dirigente accompagnatore perché io giocavo prima di fare atletica a pallacanestro e dopodiché finalmente lei ha deciso di venire a fare atletica leggera e da lì è nato di nuovo alla passione per costituire un gruppo giovanile, adesso abbiamo una piccola società che però piano piano sta crescendo, era partita dal ABC Progetto Azzurri che era la nipote della SNIA BPD di fatto creata da Franco Sar, poi dopo purtroppo quando lui è mancato abbiamo visto che le forze erano quello che erano mentre la nostra società satellite di Bergamo aveva una forza decisiva dal punto di vista organizzativo e quindi con i grandi siamo passati all'atletica pianura bergamasca adesso abbiamo io e mio marito un gruppo qua a Milano, ci alleniamo però più al campo 25 aprile però qualche volta le gare quando sono all'arena ovviamente sono le nostre preferite Giuliana atleta, professoressa, allenatrice, giornalista, mamma, allenatrice, nuovamente atleta oltre a essere impegnata anche nella società che ha un impegno continuo verso i giovani come cambia il punto di vista e quanto è importante il luogo dove si fa sport? Forse più che il luogo, a parte che questo è un luogo magico, questo dell'arena di Milano perché c'è la storia però anche al campo 25 aprile c'è stata la storia, abbiamo avuto medaglie di Alberto Cova, di Francesco Panetta, poi c'è Danilo Goffi, ci sono parecchi atleti fortissimi che anche Lucilla Andreucci e la Sonia Maccioni nella maratona che hanno partecipato comunque alle Olimpiadi e diciamo che è l'ambiente e l'ambiente dell'atletica sinceramente è veramente una grande famiglia, a volte si litiga, si litiga insieme, non si è d'accordo su determinate politiche, non si è d'accordo sulla modalità magari anche di allenare i giovani, io quando ho fatto il dirigente della pallacanestro con mia figlia mi trovavo in panchina e sentivo il cuore dell'arbitro che batteva fortissimo perché lo stavano attaccando dal pubblico, da lì ho detto non è possibile uno sport del genere, un ragazzo di 18 anni non può venire aggredito da gente che ha i suoi figli che giocano, che hanno la stessa età e da lì era partita questa idea di fare il manuale di sopravvivenza del giovane atleta che è un libro, ho fatto solo quel libro lì, però è un libro in cui ho intervistato personaggi dello sport e diciamo che per chiarire qual è un po' la metodologia e quali sono i valori che intendiamo seguire con queste persone e personalmente, per cui per me i giovani sono sacri, bisogna avere rispetto sia del loro momento di crescita che può avere delle difficoltà, però lo spolli può aiutare tantissimo e quello che mi fa piacere nella mia vita di insegnante è di essere riuscita in tre casi a risolvere dei problemi a ragazzi che stavano prendendo una brutta strada e quello lo ricordo con piacere e due di questi sono qua nell'atletica leggera adesso, per cui lo sport ha veramente delle potenzialità che se dietro ci sono persone oneste, limpide e che lavorano con la pedagogia diciamo che si può sviluppare qualcosa di notevole. Si parla di nuovi giochi della gioventù, cosa pensi al riguardo? Allora conosco bene il problema, ho seguito molto questo desiderio di ritornare ai giochi della gioventù, sinceramente mio padre era redattore della Gazzetta allo Sport negli anni 70, c'è un bellissimo articolo sulla prima pagina nel 76 in cui i giochi della gioventù venivano comunque portati ancora ad esempio, ma c'era il fatto che c'era un gran legame tra il territorio, le istituzioni, le federazioni, le società e la scuola. Questo adesso diciamo che si cerca di portare avanti con i campionati studenteschi, non è che non esista più nulla per la scuola, da quando i giochi della gioventù sono terminati poi ci sono state varie fasi, adesso siamo nella fase in cui noi per il primo grado e per il secondo grado abbiamo i campionati studenteschi. Di tutte le discipline si è allargato sempre di più il ventaglio delle discipline, c'è sempre CONI Sport e Salute e ci sono le varie federazioni che collaborano, c'è il Comitato Italiano Paralimpico, però che cosa succede? A differenza dei giochi della gioventù le ore pagate per i docenti, per i gruppi sportivi scolastici sono pochissime. Quindi la grossa differenza era che nei giochi della gioventù si riusciva con le ore complementari a motivare i docenti di educazione fisica a fermarsi al pomeriggio, 6 ore settimanali, 6 ore settimanali sono 24 ore ogni mese che ogni docente di una scuola poteva fare. Considerato che magari c'erano 3, 2, 3, 4 docenti, comunque il lavoro era ottimo e si riusciva anche a organizzare delle fasi di istituto che a mio parere sono una cosa fondamentale. C'è la fase di istituto che ormai molti non organizza più, perché le ore a disposizione pagate sono anche poche e per cui si va a prendere magari i ragazzini che sono già inseriti in uno sport e li si mette nel circuito del campionato studentesco e questo però non produce un avvicinamento di chi non conosce lo sport. Per cui io direi che sui giochi della gioventù potremmo anche essere tutti d'accordo, però di fatto la differenza sostanziale è questa. O riusciamo a rimotivare assolutamente chi già lavora nella scuola e magari facciamo formazione per chi già lavora nella scuola, perché noi facciamo anche tanti progetti, però poi stando con i piedi in due scarpe, quando ero in Fidal facevo veramente molta fatica a trovare gli istruttori dell'atletica leggera che riuscissero ad andare a fare due ore in una scuola di montagna, due ore a metà valle e due ore in città, perché le nostre realtà sono queste. Noi abbiamo tanti paesini in cui c'è una classe quinta per esempio, per cui c'è solo una scuola primaria con una sezione unica, quindi abbiamo bisogno poi di persone che si possano muovere e possano raggiungere questi posti. Invece se noi riusciamo a formare le persone all'interno che già lavorano all'interno della scuola e facciamo un'ottima formazione, facciamo un controllo delle attività, secondo me forse andiamo più lontano. Quali sono i suoi progetti futuri? Adesso penso che continuerò a partecipare, perché io ho preso un'aspettativa adesso per aiutare mio marito che aveva delle difficoltà, però rientrerò a settembre penso nel coordinamento regionale della Lombardia e poi con la nostra squadra di atletica leggera, io spero che si continui a crescere, stiamo coinvolgendo anche sempre più giovani e stiamo lavorando sulla qualità. Nello stesso tempo c'è questa associazione italiana di storia dei cronisti e storici dello sport che mi appassiona e seguiamo questo sito della Cross e anche questa è veramente una parte della mia vita che mi interessa. Ieri ho pubblicato questo articolo di Raffaele Ciccarelli che forse fa parte anche del Lussi su Gigi Riva e mi accorgo che per la mia conoscenza personale seguire questo sito è importantissimo perché sono motivata a imparare. 20-24 è un anno importante per l'atletica, prima gli europei a Roma e poi le Olimpiadi a Parigi, qual è il suo pensiero a riguardo? Direi che potremmo raggiungere un apice perché è già ormai un biennio che i nostri ragazzi comunque stanno tenendo dei risultati grandiosi. Oltre alla federazione ovviamente che sta lavorando con Stefano Meio, credo che anche la struttura tecnica e il direttore tecnico Antonio Latorre che è assolutamente un personaggio dal carisma invidiabile abbia prodotto anche questa unione della squadra e questa voglia di emergere. Diciamo che la base è un po' più elevata adesso, c'è stato un po' un boom e forse mancano le seconde schiere un po' più sulla quantità però diciamo che sta migliorando la qualità del lavoro. Un pronostico sulle vittorie degli azzurri a Roma e sulle Olimpiadi di Parigi? Beh, ovviamente tutti confidano in Jimbo Tamberi, abbiamo sempre Tortu che è già esploso ma può riesplodere, abbiamo Jacobs e quindi speriamo, poi ci sono i nostri marciatori che sono sempre l'ossatura, diciamo quelli che ci salvano sempre con le loro medaglie. Mi è capitato nella vita di essere nella commissione tecnica dell'International School Sport Federation che è praticamente l'associazione che si occupa dei mondiali giovanili, delle varie discipline, delle gimnasiadi e ai mondiali giovanili partecipano le squadre che vincono i campionati studenteschi di ogni paese e a Parigi siamo stati due o tre volte, l'organizzazione anche solo per queste che sono gare comunque studentesche era di elevatissimo livello. Per di più in situazione, non so, il cross country l'hanno fatto proprio sotto la Torre Eiffel con un percorso e c'era tutta la federazione comunque francese che aveva dispiegato le proprie forze quindi io credo che la Francia sarà un'organizzazione notevole. Ciao! 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 Grazie.